Quando parlo di medicina rigenerativa o quando dico che mi occupo di medicina rigenerativa, la prima reazione delle persone è, cioè esattamente cos'è che fai? E per arrivare a spiegarlo partiamo proprio dal concetto di quando la passione incontra la ragione. Una delle grandi passioni dell'uomo che sono spesso associate alla ragione è l'amore per la conoscenza, la voglia di studiare, di capire, di conoscere, di rendersi conto di come funzionano le cose, perché questo ci dà la sensazione di poter controllare gli eventi, dominare il nostro futuro, prevedere ed essere artefici della nostra fortuna, della nostra sopravvivenza. Ed è qualche cosa che permea la nostra esistenza sempre, fin da piccoli, spesso nei giochi. Ma questo tipo di passione è qualche cosa che appartiene veramente all'uomo sin dai tempi più antichi che ha portato al tentativo di cercare di raggiungere questa mitica sostanza, la pietra filosofale, in grado di bloccare, di eliminare la corruzione della materia, quindi di trasformare i metalli in oro e donare all'uomo la sopravvivenza. Origina, diciamo, nei primi report su questo tipo di cose, dai tempi degli antichi greci, da un mito greco, ma è stato estremamente diffuso anche tra gli arabi nel Medioevo e si è diffuso in tutta Europa. Quindi è qualche cosa che descrive la voglia di conoscenza e la voglia di mutare gli eventi e di poterli controllare da parte dell'uomo. Tanto che ai primi dell'Ottocento Mary Shelley scrisse nel suo romanzo su Frankenstein dove l'uomo addirittura ricostruiva se stesso, prendendo delle parti corrotte della materia, riusciva a combinarle insieme per poter creare un uomo nuovo, frutto della sua manipolazione e non di eventi incontrollati. Questa voglia di conoscere la materia ha portato a spaziare nei settori più svariati e tra le sostanze più svariate e fra le cose positive e le cose negative una delle cose che abbiamo scoperto è stata l'energia nucleare. L'energia nucleare che purtroppo in tempi più recenti ha portato a dei disastri importanti, ha portato a morti, sofferenze e cose molto brutte. Tuttavia nulla riesce a essere completamente negativo, evidentemente c'è sempre qualche risvolto positivo in tutte le cose e da questa terribile esperienza è nata la scoperta delle cellule staminali. Gli individui che avevano avuto dei danni a seguito dell'irradiamento avevano avuto un comportamento particolare, strano, spesso non morivano subito ma avevano in una fase successiva anemie, infezioni, come se il loro sangue fosse deserto. Questo ha portato gli scienziati a cominciare a capire determinati meccanismi e quindi a far riprodurre l'esperimento su animali di laboratorio e a scoprire che il topo irradiato aveva effettivamente la formazione di questo sangue deserto in grado, non più in grado, di produrre un sistema immunitario che potesse difenderlo dai batteri che ci circondano nella realtà e nella vita di tutti i giorni nell'ambiente. Tuttavia si scoperse anche che se in questo topino danneggiato noi infondevamo delle cellule staminali del midollo osseo, il topino sopravviveva perché si riformava da queste cellule l'intero tessuto ematopoietico, cioè il sangue, con tutti i suoi componenti e lui diventava di nuovo immunocompetente, capace di difendersi dai microbi. Quando il topino veniva infuso invece con cellule del midollo osseo ma non staminali, dopo meno di sei mesi moriva di nuovo per anemie e infezioni. Quindi questo ha portato una sorta di entusiasmo, sensazione di poter controllare questo strumento perché era in grado di ridonare la vita anche in condizioni estreme a degli esseri viventi. E la fase successiva che ha portato al grande entusiasmo è stato rendersi conto che potevamo addirittura estrarre le cellule completamente dall'organismo, coltivarle e se quello che avevamo fatto era fatto bene in maniera scientificamente rilevante queste cellule mantenevano le loro capacità. Vedete nella foto delle cellule embrionali di topo verdi sono state rimesse dopo le manipolazioni in laboratorio nella mamma topo e hanno dato origine a un topo verde che significa che queste cellule hanno mantenuto la loro capacità di fare peli, pelle, ossa, occhi, intestino, cuore, fegato tutto completamente nonostante le manipolazioni al di fuori dell'essere vivente. E questo è un passo epocale che ha portato un grande entusiasmo la sensazione di poter fare qualsiasi cosa grazie a questo strumento quindi studiare le patologie, studiare i farmaci, i difetti genetici e ricostruire dei pezzi di ricambio. Questo ha stuzzicato ovviamente grandemente la fantasia dei media, degli artisti e ha cominciato a creare l'idea, vedete le immagini su Focus, su Wired di organi ricostruiti in provetta, in piastre di cultura in National Geographic immaginava delle teche piene dei vari organi la fabbrica degli organi descritta dal sole 24 ore il famoso film, il replicante Blade Runner proprio sulla scia di questo delirio quasi di onnipotenza dell'uomo con questo strumento nelle mani. Ma quando parliamo di staminali, di che cosa si parla? Perché è un discorso che viene spesso nei giornali descritto in maniera un pochino confusa quando noi parliamo di qualche cosa, di questi strumenti che ci possono servire per ricostruire delle parti di noi per ripristinare delle funzioni normalmente ci riferiamo a tre tipi di cellule staminali le embrionali, quelle cosiddette IPS che sono delle adulte fatte diventare embrionali e le cellule staminali adulte. Vediamo velocemente, le embrionali sono ovviamente prese dall'embrione in particolar modo da quel mucchiettino di cellule in una certa fase dello sviluppo e sono in teoria capaci di fare qualsiasi cosa, qualsiasi tessuto però sono sempre allogeniche, cioè di un altro individuo perché l'embrione ovviamente non sarà il nostro ma sarà quello di qualcun altro ed sono un tipo di cellule che in molti individui crea dei problemi etici perché disturba molte categorie di persone l'idea di dissociare un potenziale essere vivente per utilizzarlo per scopi anche terapeutici. Le IPS sono una scoperta per il quale il premio Nobel di Yamanaka appunto vinse il Nobel nel 2012 e sono sostanzialmente delle cellule adulte quindi queste possono essere le nostre, le stesse del nostro organismo nelle quali vengono infilati tramite delle tecniche di biologia molecolare quattro geni, poi si è scoperto che potevano essere anche tre questi geni ma è lo stesso il meccanismo che sono delle molecole espresse nell'embrione quando vengono inserite nelle cellule staminali adulte queste tornano a essere embrionali qui si bypassa il problema etico sono cellule nostre quindi il nostro sistema immunitario le riconosce tuttavia il problema è che diventano capaci di fare qualsiasi cosa e noi gli dobbiamo saper dire, dare istruzioni precise perché facciano quello che vogliamo noi e non qualsiasi cosa altrimenti l'individuo morirebbe di un tumore embrionale che si chiama teratoma e questo non è sempre facile infine abbiamo le cellule staminali adulte che sono sempre state un pochino più facili da manipolare perché loro sapevano già fare il loro lavoro andavano tranquille verso il loro obiettivo e quindi bastava non interferire con la loro azione era difficile riconoscerle bisognava trovarle nei diversi distretti non è stato sempre facile individuarle in alcuni casi non sono ancora state individuate quindi sulla base di tutto questo abbiamo tutto questo pannello di strumenti abbiamo imparato tante belle cose siamo riusciti a costruire i pezzi di ricambio perché questo è quello che ci chiede la società questo è quello che ci chiedono i pazienti ci siete riusciti? a che cosa è servito tutto questo studio? la buona notizia è che sì, ci siamo riusciti ci siamo riusciti, certo non tutte le volte che avremmo voluto però ci siamo riusciti nel 1984 l'uomo è stato capace l'uomo in questione era un professore di Harvard di ricostruire una parte di se stesso cioè di isolare le cellule staminali dal corpo e ricostruire l'intero tessuto dell'epidermide umana in laboratorio e trapiantarlo su un paziente ustionato salvandogli la vita è stato un passo epocale, infatti l'ho associato all'immagine della scoperta della luna perché è la prima volta in cui l'uomo si costruiva il pezzo di ricambio che era andato perduto con delle tecniche di laboratorio subito dopo nel 1986 il team di lavoro di cui ho fatto parte io e ha fatto parte il professor De Luca è stato in grado di riprodurre la tecnologia in Europa e trattare Franco che aveva 18 anni 86% di ustione di terzo grado sulla superficie corporea e salvargli la vita questo è lui nel 2014 è ancora vivo ma la foto è del 2014 che è sopravvissuto con qualche cicatrice ma felice di essere vivo è tornato tante volte a trovarci e non basta perché quando si vede un successo quando si vede che ci si può riuscire viene la voglia di andare avanti di provare a raggiungere altri obiettivi di raggiungere altri traguardi e quindi il mio team di lavoro questa volta nel 1997 ha provato la ricostruzione in laboratorio della superficie dell'occhio umano quella lentina trasparente che abbiamo davanti che noi vediamo colorata perché vediamo l'iride sotto che ci consente il passaggio della luce e quindi la visione per pazienti che avevano perduto la funzione visiva questa è la superficie corneale ricostruita in laboratorio così come la vediamo ancora adesso ancora oggi che viene fatta con le cellule dello stesso paziente prendendo un prelievo piccolo di un millimetro riusciamo a ricostruire entrambi gli occhi e questi sono gli occhi curati che recuperano completamente la loro superficie la loro funzione visiva e la loro stabilità vedete quanti anni hanno indicati dopo il trapianto e ancora i loro occhi funzionano perfettamente veramente un ripristino di quello che era prima come se non fosse successo niente è una cosa straordinaria e poi un altro obiettivo recente che ha fatto un pochino il giro del mondo alla fine dell'anno scorso la ricostruzione dell'epidermide con un genoma modificato vedete quel bambino era in Germania di origini siriane aveva perduto completamente tutta l'epidermide della sua superficie corporea e stava morendo era in coma farmacologico per tollerare il dolore e si stava aspettando che morisse abbiamo provato a prendere le sue staminali della pelle modificare il genoma per inserire il gene che gli mancava e ricostruire tutta la sua superficie corporea e trapiantargli la sua pelle geneticamente modificata siamo riusciti e dopo quasi due anni dal trapianto abbiamo comunicato ufficialmente al mondo scientifico la notizia e alla fine dell'anno scorso questa notizia ha fatto il giro del mondo perché la pelle è l'organo più grande che noi abbiamo è molto importante questo è lui questo è lui si chiama Hazan ed è quando è uscito dall'ospedale oggi va a scuola e gioca a calcio e ancora altri team di ricerca hanno potuto ricostruire il sistema immunitario funzionante per curare i bambini in bolla quelli che sono privi di difese verso i microbi e l'ambiente esterno salvandogli la vita questa volta è il team del San Raffaele di Milano ci siamo fatti l'idea che con le staminali e la medicina rigenerativa si poteva fare qualsiasi cosa diventare come Brad Pitt nel mio caso magari Angelina Jolie che è meglio perlomeno per me e questo tipo di convinzione e questa sensazione di poter fare qualsiasi cosa un po' alimentato anche dai media purtroppo che hanno un po' esagerato ha portato qualcuno come spesso accade ad approfittarne per cui persone come Vannoni che era laureato in lettere non in medicina ha proposto il metodo stamina dichiarando un sacco di falsità biologiche, scientifiche e anche proprio nel riportare i fatti realmente accaduti o XL in Germania perché non siamo solo gli italiani a essere imbroglioni per carità siamo belli distribuiti in tutto il mondo che hanno proposto dei trattamenti a base di cellule che invece producevano dei gravi eventi avversi e questo, vabbè quella ditta è stata chiusa e stamina Dio volendo anche però purtroppo ce ne sono altre alimentando il turismo sanitario ci possiamo difendere da queste cose da quelli che strumentalizzano qualcosa che invece sarebbe una cosa bella una cosa creata per il rispetto della salute della vita dei pazienti sì, ci possiamo difendere lo possiamo fare perché il nostro corpo ha delle caratteristiche straordinarie noi siamo in grado di produrre 300 miliardi di nuove cellule ogni giorno 200 milioni al minuto noi siamo, voi, siete dei supereroi avete un cuore che batte un milione di volte al giorno e mentre batte un milione di volte al giorno meglio delle percussioni di Damat immaginatevi qualcosa del genere dentro di voi continuamente spompa 6 litri di sangue attraverso 120 mila chilometri di vasi sanguigni nel vostro organismo produce un milione virgola due di eritrociti, globuli rossi ogni giorno per rimpiazzarne altre tanti che muoiono e ha un sistema di difesa che è più potente del più potente dei presidenti della più potente delle nazioni quindi siamo veramente dei supereroi siamo veramente qualche cosa che deve essere rispettato che va trattato con cura perché è veramente splendido ma soprattutto il nostro cervello abbiamo un cervello che in questo momento mentre voi siete qui che se credete di svolgere come unica operazione l'ascolto di quello che io vi sto dicendo in realtà il vostro cervello sta facendo miliardi di attività perfettamente, armoniosamente coordinate perché sta regolando il funzionamento del cuore, dell'intestino, del fegato, del cervello della sudorazione, della crescita del pelo del rinnovo dell'epidermide del milione virgola due di eritrociti sta facendo una quantità di cose incredibili quindi c'è un genio dentro di noi usiamolo non buttiamolo nelle mani di un apprendista stregone quando ci vengono proposte delle terapie noi facciamoci delle domande tante come facciamo a sapere se possiamo essere sicuri se ci possiamo fidare di chi c'è davanti prima che una terapia di queste arrivi a un paziente quindi che vi venga proposto devono essere state prodotte tante pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate chiedete riferimenti informatevi fate tante domande cercate se questi lavori scientifici esistono altrimenti non è vero niente altrimenti è una truffa non solo ma avere quanti più elementi possibili vi servirà per chiedere tante altre opinioni confrontate l'opinione con tanta gente con tanti specialisti non il vicino di casa a meno che non sia uno specialista per carità e poi il consenso informato chi vi propone una terapia seriamente vi deve proporre un consenso informato che vi spieghi tutto quello che vi fanno quali sono le basi scientifiche del trattamento qual è il meccanismo d'azione e che cosa potreste fare in alternativa a quello molto in dettaglio dovete sapere tutto per evitare di cascare nelle mani di una persona sbagliata io concludo dicendovi che quando seppi della prima ricostruzione di un tessuto umano in laboratorio fuori dal corpo umano per la ricostruzione di un pezzo di persona fui veramente folgorata fulminata dall'emozione e pensai quella è la via quella è la nuova via della medicina quello dobbiamo fare perché è precisa perché è potente perché è in grado di riprodurre tutte le funzioni del nostro organismo e è una cosa adatta a noi non altera i nostri equilibri è rifatta con i nostri pezzi quindi è una cosa straordinaria insieme tutti insieme soprattutto anche gli stessi pazienti dobbiamo cooperare per evitare che questo gioiello questa possibilità di ricostruire dei pezzi di essere umano vengano male utilizzati per scopi personali applausi applausi bene me ho ho mi ho mi Grazie a tutti.